Sara ha ritrovato l'amore. Ecco chi è Sara Affifella è di nuovo al centro del gossip per aver pubblicato una frase romantica Dopo la fine della relazione d'amore con Nicola Panico e Vittorio Parigini, sembra che ha ritrovato l'amore Secondo quanto riportato da Isa e Chia, il ragazzo che le ha fatto tornare il sorriso è un altro calciatore Si chiama Francesco, precisamente giocatore del Trapani. La modella di Venafro è stata fotografata in sua compagnia di recente La diretta interessata non ha né confermato né smentito la notizia. Ha lasciato intendere di non essere fidanzata, ma non ha negato di avere qualcuno accanto Non è lui. Vi dirò io chi appunto ha uomini e donne Sara ha scelto Luigi Mastroianni, ma dopo due settimane si sono detti addio A distanza di mesi, nello studio Nicola ha ammesso di aver assecondato la sua farsa per amore Ha deciso di parlare dopo aver scoperto la sua relazione con Vittorio. La situazione l'ha costretta ad allontanarsi dai social e a rivolgersi a uno psicologo Da poche settimane non solo ha riattivato il suo profilo, ma ha iniziato a pubblicare una serie di frasi romantiche Una lettrice del blog di gossip ha dichiarato di averla vista il giorno di San Valentino nel paese siciliano dell'ipotetico fidanzato In effetti quel giorno ha condiviso l'immagine di un paesaggio che a molti, ha ricordato appunto quello della Sicilia Per ora l'extronista preferisce restare nel silenzio. Tuttavia ha promesso che presto dirà come stanno realmente le cose Luigi verso la scelta.E se Sara ha ritrovato l'amore, Luigi si sta focalizzando su Irene Capuano e Valentina Gallo Molti sperano che scelga la prima, anche perché si dice che la seconda sia segretamente fidanzata Un'altra batosta per il 23enne. Come reagirà quando gli verrà comunicato ciò?